Arzer Grande. Ispettori dello Spisa dell'Ulss 16 di Padova e Carabinieri di Codevigo mercoledì hanno sequestrato un laboratorio calzaturiero cinese. Molte le irregolarità che sono state riscontrate all'interno della manifattura. Un impianto elettrico faticente, contenitori di colle e solventi altamente infiammabili utilizzati da due lavoratori di origine cinese senza alcuna protezione. L'aria era irrespirabile e soprattutto era elevatissimo il pericolo di esplosione ed incendio tanto che si è dovuto procedere al sequestro.